pace e bene a tutti apriamo quest'oggi un nuovo scorcio sulla filosofia commentando l'introduzione ad un importantissimo scritto filosofico della modernità che è il trattato sulla natura umana di david hume la tesi fondamentale che voglio avanzare fin dal principio è questa a mio avviso hume nella sua introduzione al trattato non riesce a mettere in luce la portata speculativa assolutamente dirompente che pure soggiace a questa stessa introduzione cioè a me pare che hume in questa sua introduzione non riesca a esplicitare in modo compiuto in modo esplicito la portata filosoficamente rivoluzionale ed epocale del suo scritto ma che anzi questa introduzione tenda ad occultare a sminuire fortemente la portata speculativa che pure sta alla base di questo grande testo infatti se noi leggiamo in modo superficiale l'introduzione a questo trattato sulla natura umana può sembrarci che hume voglia andare a sviluppare una sorta di psicologismo su base empirica cioè sembra che hume si limiti a dire questa cosa tutte le scienze dalla politica alla matematica dalla filosofia della natura alla metafisica sono sempre fatte da uomini e la mente umana non è solo ciò in virtù di cui noi possiamo appunto svolgere queste scienze ma la mente umana è anche un oggetto fra gli oggetti la mente umana non è solo ciò che indaga la realtà ma è anche un pezzo della realtà allora hume sembra dire unicamente questa cosa noi dato che ci interfacciamo alla realtà sempre attraverso la mente umana e dato che la mente umana è un pezzo della realtà che cosa dobbiamo fare dobbiamo studiare come funziona la mente umana e su questa base sulla base di come funziona la mente umana possiamo poi capire tutte le altre scienze riconducendo tutte le scienze tutte le acquisizioni umane tutti i grandi traguardi dell'umanità ai meccanismi della mente umana questa tesi si chiama psicologismo psicologismo cioè relativizzare i risultati delle scienze al modo in cui funziona il cervello umano psicologismo arriva fino ad affermare che 2 più 2 fa 4 semplicemente perché abbiamo il cervello fatto in un certo modo se avessimo il cervello fatto in un altro modo magari 2 più 2 farebbe 5 o magari non sarebbe neanche sensato porsi la domanda di che cos'è un'addizione banalmente ok questo a mio avviso sembra ciò che young vuole affermare nella sua introduzione l'obiettivo è quello di studiare empiricamente la mente umana al fine di ridurre tutte le scienze ai modi in cui funziona la mente umana e quindi sviluppare uno psicologismo su base empirica oppure un po la stessa cosa in questo senso un antropocentrismo un relativismo tutto è relativizzato ai modi in cui funziona la mente umana il cervello umano parrebbe dire young dato che intende questo soggetto umano che si interfaccia il mondo come una parte del mondo in realtà però al di sotto di questa lettera dell'introduzione al trattato si trova qualcosa di molto più potente di molto più ricco young infatti se andiamo ad analizzarlo un po più in profondità scopriamo che non vuole non vuole affatto proporre un mero psicologismo un mero relativismo antropocentrico bensì young sviluppa una io direi una vera e propria metafisica o quantomeno potremmo dire sviluppa una fenomenologia una particolare fenomenologia una fenomenologia che si lascia alle spalle ogni riferimento all'uomo lungi dall'essere il discorso iumiano un mero psicologismo il discorso iumiano è talmente radicale da lasciarsi alle spalle ogni riferimento all'uomo umano sviluppando una fenomenologia o meglio si potrebbe dire un fenomenismo in cui l'apparire di ciò che appare nella percezione è un apparire in qualche modo puro un apparire puro da ogni riferimento ad un oggetto esterno e ad un soggetto che recepirebbe tale apparire ecco allora cerchiamo di leggere l'introduzione al trattato sulla natura umana in questo modo no? facendo un lavoro di scavo prendendo coscienza della del superficiale psicologismo iumiano per giungere a cogliere l'autentica portata di questo scritto che soggiace allo psicologismo e che è invece una vera e propria fenomenologia una vera e propria potremmo dire metafisica del negativo ecco partiamo allora dall'inizio no? Ium apre questa introduzione al trattato sulla natura umana con un'immagine che poi sarà ripresa da Kant no? davanti al tribunale della ragione umana osserva Ium tutti siamo profondamente ignoranti e anche i più accreditati tra i sistemi filosofici scientifici hanno una fondazione assolutamente debole una debole fondazione weak foundation e nonostante ciò nonostante la nostra strutturale naturale ignoranza noi al contempo abbiamo la naturale inclinazione a elogiare i nostri sistemi filosofici e tuttavia noi dobbiamo prendere coscienza che nonostante la nostra naturale protervia potremmo quasi dire noi davanti al tribunale della ragione umana ci riveliamo tutti assolutamente deboli ignoranti osserva Ium che tutti i sistemi filosofici anche quelli dei più eminenti filosofi hanno le seguenti caratteristiche si basano dice Ium su principi accettati sulla mera fiducia dogmi pregiudizi diremmo due da questi principi tutti i sistemi ricavano conseguenze maldedotte maldedotte inoltre tutti questi sistemi osserva Ium presentano una incoerenza in the parts una incoerenza tra le parti e una mancata evidenza in the whole nel sistema nel suo complesso da questa ignoranza diffusa si genera un disaccordo altrettanto diffuso gli esperti i presunti sapienti litigano su tutto proprio perché non riescono a trovare un fondamento solido in quel che dicono allora scrive Ium le discussioni si moltiplicano in mezzo a questo trambusto non è la ragione a prevalere bensì l'eloquenza chiunque può far proseliti alle ipotesi più stramparate a patto che le sappia presentare in modo accattivante ecco che là dove manca il fondamento vince chi grida di più vincono i sofisti vince la propaganda vince la propaganda in queste discussioni osserva Ium non vincono i guerrieri i guerrieri the man at arms bensì vincono i trombettieri tamburini e musicanti dell'esercito vince chi fa chiasso vince chi fa chiasso ebbene siamo in questa situazione di ignoranza che genera questa situazione di battaglia di confusione perenne nella quale vince chi grida di più vince la propaganda da questa situazione di caos nasce la diffidenza verso la metafisica la metafisica dice Ium ormai non viene nemmeno più considerata come un ramo del sapere bensì metafisico viene inteso ogni genere di argomento un poco astruso un poco astruso la domanda che si pone Ium nella sua introduzione è questa data questa situazione di guerra diffusa e di impossibilità di trovare un fondamento che non sia debole come si può uscire da questo scacco? come si può uscire da questo scacco? la risposta che apparentemente ci dà Ium è quella che avevo anticipato prima ma lo psicologismo ci dice l'unico fondamento solido che possiamo trovare per uscire da questa situazione è conoscere solo ciò che l'uomo può conoscere e al contempo conoscere i modi in cui l'uomo può conoscere non pretendere ti dice Ium nella sua introduzione di conoscere al di là delle facoltà delle capacità dell'uomo stai invece dentro a queste capacità within the reach of human capacity dentro le capacità di conoscere attestati entro le capacità di conoscere umane cerca di conoscere come l'uomo conosce e attestati entro ai modi e ai limiti potremmo dire della conoscenza umana non andare al di là non credere di arrivare a delle verità che travalicano l'umano delle verità oggettive cerca di conoscere l'uomo relativizza tutti i risultati a risultati per l'uomo dell'uomo prodotti dalla mente umana perché osserva Ium tutte le scienze intrattengono una relazione più o meno stretta con la ragione umana la matematica la filosofia naturale la religione naturale osserva Ium per quanto siano differenti tra loro hanno in comune una cosa dipendono tutte dalla scienza dell'uomo perché sono tutte fatte dall'uomo sono tutte scienze dell'uomo in quanto tutte le scienze soggiacciono alla conoscenza degli uomini e sono giudicate dalla facoltà degli uomini ecco che per dare per trovare una fondazione solida bisogna in qualche modo cadere nel relativismo l'unico modo per dare una fondazione solida alle conoscenze è ricondurre le conoscenze alla particolare postura umana troppo umana con cui l'uomo conosce ecco allora che per dare delle spiegazioni fondate bisogna ricondurre queste spiegazioni alla natura umana perché è sempre la natura umana che dà queste spiegazioni e quindi bisognerà anzitutto ed è questo l'obiettivo esplicito che Ium si pone nella sua introduzione bisognerà anzitutto spiegare explain la natura delle idee della mente umana e la natura delle operazioni che la mente umana effettua per appunto sviluppare i suoi ragionamenti e la spiegazione su base empirica della natura delle idee in generale delle percezioni della mente umana e appunto delle operazioni della mente umana dice Ium è studiata dalla logica e quindi viene intesa questa logica come una sorta di psicologia ebbene una volta che logicamente si è studiata la struttura e la dinamica della mente umana finalmente si potranno ricondurre tutti i risultati di tutte le scienze particolari a questa scienza dell'uomo relativizzando tutte le scienze alla prospettiva dell'uomo si potrà finalmente dare a queste scienze un fondamento che è solido the only solid foundation l'unico solido fondamento che si basa sulla esperienza e sulla osservazione quindi in qualche modo si capisce che per dare un solido fondamento l'unico solido fondamento alle diverse scienze Jung deve trovare questo solido fondamento relativamente all'uomo e quindi lo psicologismo l'antropocentrismo speculativo pare essere l'unico solido fra virgolette fondamento che Jung è in grado di trovare sviluppando una sorta di psicologismo su base empirica su base empirica perché perché la logica appunto che studia la struttura la dinamica della mente umana studia la mente umana su base empirica dato che osserva Jung noi stessi non siamo soltanto esseri che ragionano ma anche uno di quegli oggetti su cui ragioniamo quindi Jung riduce il soggetto conoscente ad un oggetto del mondo che può essere conosciuto su base empirica conosciute le modalità di conoscenza di questo soggetto oggetto umano bisogna relativizzare tutte le conoscenze ai modi di conoscenza di questo soggetto oggetto umano ecco solo in questo modo si può sviluppare un sistema completo di tutte le scienze questa è la lettera dell'introduzione al trattato sulla natura umana se Jung si fosse limitato a dire questo Jung sarebbe uno dei tanti relativisti psicologisti che costellano la storia della filosofia e non avrebbe a mio avviso nessun interesse speculativo ma Jung nonostante esplicitamente si limiti a dire questo o poco altro nel suo profondo dice qualcosa di molto più dirempente che cosa dice Jung che cosa dice Jung ebbene Jung ci dice questo dice proprio perché la mente umana alla quale tutte le conoscenze vanno ricondotte e relativizzate può essere studiata solamente su base empirica e l'esperienza essendo a posteriori non ci dà nulla di assolutamente oggettivo l'esperienza non ci permette di conoscere the essence of the mind l'essenza della mente l'essenza della mente colpo di scena colpo di scena sembrava che Jung ci dicesse relativizziamo tutte le conoscenze ai modi di conoscere della mente umana ora però ci dice che la mente umana è inconoscibile che il soggetto conoscente non può essere conosciuto questo vuol dirci Jung quando già nell'introduzione ci dice che non possiamo spingersi spingerci beyond the experience oltre l'esperienza più avanti nella sesta sezione alla parte seconda del primo libro del trattato Jung ci dice che non possiamo spingerci oltre ciò che appare all'interno di quel cerchio ristretto in that narrow compass non possiamo spingerci oltre ciò che appare all'interno di quel cerchio ristretto che è il fenomeno ciò che lui chiama percezione cioè Jung ci dice questo noi siamo vincolati alla percezione e da principio Jung pareva dirci che la percezione è percezione di un soggetto che è il soggetto umano e che può essere conosciuto in quanto parte del mondo psicologismo ora però ci dice che di questo soggetto umano che percepisce ciò che appare in realtà noi non possiamo conoscere nulla non possiamo conoscere l'essenza ed ecco che allora Jung arriva a riconoscere che l'unica cosa che può essere conosciuta in modo auto-evidente auto-trasparente è ciò che appare è ciò che appare è ciò che appare la percezione non può fare riferimento ad un oggetto esterno dato che l'oggetto esterno non appare in quanto tale non appare nulla oltre la percezione non appare un oggetto esterno alla percezione così non appare un soggetto al quale questa percezione appare così non appare un dio inteso come una sorta di principio creatore tanto del soggetto quanto dell'oggetto ecco che Jung dicendoci che dobbiamo limitarci ai limiti ristretti della percezione opera una sorta di riduzione fenomenista dove l'unica cosa auto-evidente sono le percezioni dei fenomeni che non hanno nulla oltre esse né un oggetto né un dio né un soggetto umano ecco se all'inizio Jung diceva che tutto va relativizzato al soggetto ora dicendoci che del soggetto non possiamo cogliere un'essenza ci dice che in realtà anche il soggetto umano è qualcosa che non può essere ammesso all'interno della ricerca e che quindi non è possibile relativizzare tutto al soggetto umano dato che anche sul soggetto umano dobbiamo sospendere il giudizio questo è il punto ci dobbiamo invece fermare a ciò che appare alla percezione senza ricondurre questa percezione ad un soggetto umano o non umano che percepisce e quindi in questo senso si fa una fenomenologia autotrasparente è solo il fenomeno è il soggetto che sta al di qua del fenomeno e l'oggetto che sta al di là del fenomeno non sono ammessi nella sua ricerca dobbiamo semmai osserva Jung cercare le cause che ci inducono ad avere fede nell'esistenza di un soggetto di un mondo esterno di un dio dobbiamo semmai ricercare le cause che ci inducono ad avere fede in queste cose e la stessa nozione di causa deriva da un atto di fede questa è la grande metafisica critica negativa questa è l'autentica portata che soggiace all'introduzione al trattato sulla natura umana di David Hume